Sono carichissimo, ci siamo divertiti bene no, col buon senso, tutti ordinati, niente alcol, niente droga, niente sesso no, perché noi mettiamo tutto a posto sempre, poi c'è un brano che si intitola quando friggete l'olio esausto non buttatelo nel water no, ragazzi mi son baciato la spalla, 53 anni riesco ancora a baciarmi la spalla, ho passato le notti ad ascoltare, fa anche anni 80, fa anche anni 70, siamo fatti di brutto no, ci siamo fatti di brutto con l'estratto di mirtillo no, giova a parti, c'è questa idea pazzesca no, che se tu hai male, una bottiglia di plastica vuota la puoi buttare dentro un apposito luogo non luogo no, il secchio, una figata pazzesca, perché io che ordino la pizza quando diluvia e tu runner che me la consegni a 3 euro l'ora siamo uguali no?